Le tre rose di Eva, Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction? La replica di lei Le tre rose di Eva, Laura Torrisi tagliata fuori dalla fiction a sua insaputta? L'attrice replica così. Dal debutto al cinema con Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi, dopo Il grande fratello, si è affermata come attrice soprattutto grazie alle fiction italiane di Mediaset. Oggi infatti la stessa interpreta uno dei personaggi protagonisti nelle tre rose di Eva, in onda su Canale 5 in prima serata. La Torrisi è anche molto attiva sui social dove spesso condivide con i suoi followers scatti e video della sua vita privata. . Sotto un suo ultimo post, tuttavia, una fan le avrebbe fatto notare un piccolo particolar sfuggito a Laura. . Quale? L'attrice sarebbe comparsa sempre di meno nelle puntate della fiction mandate in onda di recente. . . Diciamo che in tutta la fiction la sua presenza è molto labile e le scrive una ragazza su Instagram nell'ultima puntata la sua presenza è stata irrilevante. . Un commento che non è passato inosservato agli occhi della Torrisi, la quale ha risposto, controllerò quando tornerò a casa e cercherò di capire. . Non sei la prima ad avermelo scritto. . . Laura infatti al momento è in vacanza all'estero e, se questa cosa fosse vera, l'ex concorrente del grande fratello non sarebbe comunque in grado di verificarla, se non al suo rientro. . Laura Torrisi, dopo Pieraccioni un nuovo amore. . Dopo la fine della storia con Leonardo Pieraccioni, con cui Laura ha avuto una figlia, la Torrisi ha ritrovato l'amore un'altra volta. . Il suo nuovo compagno si chiama Luca Betti, ex campione di rally, e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele al momento. . Con il suo ex invece Laura condivide ancora l'amore per la figlia, Martina, uno bimba simpatica e intelligente cui frasi ironiche e scherzi sono spesso condivisi dal padre sui social. . Una bambina fortunata cui genitori, a prescindere da ciò che è successo in passato, fanno di tutto per non far mancare niente. . . . . . . .